Il 21 febbraio è il funerale di Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana. Il 13 luglio, l'ultimo saluto a Carlo. Venerdì mattina alle 11, il Duomo di Treviso accoglierà la famiglia Benetton per un altro doloroso addio, quello a Gilberto, morto ieri a 77 anni. Profondo cordoglio nella marca e da ogni parte d'Italia, dal mondo politico, economico e sportivo. Da un lato lo sconcerto di chi non sapeva della leucemia che lo aveva colpito, dall'altro il dolore di chi lo aveva visto provato in questi mesi, dalla malattia, dalla morte del fratello e dalla tragedia del Ponte Morandi, che ha fatto finire nella bufera una delle sue creature, Autostrade per l'Italia. Chi cita il valore umano, chi la visione imprenditoriale che ha trasformato il gruppo di Ponzano in una realtà internazionale. È una persona che ho stimato e ammirato veramente molto e penso che Treviso debba essere fiera, orgogliosa e grata per tutto il lavoro che Gilberto Benetton ha fatto. Il vuoto che lascerà Gilberto sarà difficilmente colmabile, ma sono convinto che grazie ai suoi grandi valori di padre che ha riuscito a trasmettere ai propri figli la grande passione e il grande amore per la città e sapranno portarla avanti. In edizione holding, di cui era vicepresidente, sarebbe pronta a subentrargli la figlia Sabrina. L'auspicio è che i manager, le nuove generazioni, decidano di investire nell'impresa e nel territorio piuttosto che nella finanza, perché questo potrebbe essere il momento di un rilancio di una manifattura di qualità, di investimenti nel territorio. Riservato, forse addirittura timido, lo ricordano nel quartiere. Via Manin, via Ortazzo, Piazzetta dei Lombardi, una vita normale, lui, la moglie Lalla, due passi per andare a pranzo d'Alfredo, la spesa dal fruttivendolo, una pizza da portare via. Qualcuno è sorpreso, i più avevano intuito invece che qualcosa non andava. Io l'ho saputo di recente da un amico che lavora presso la loro azienda da tanti anni, che non stava bene. Ma sinceramente non era al corrente della sua malattia, quindi comunque sono persone che sono ben e molto conosciute qui in città, insomma, soprattutto nel quartiere. Quindi un dispiacere. Ma sì, senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio. Gilberto Benetton, come tutti i fratelli Benetton, hanno avuto la capacità di tenere un profilo personale basso, non si sono mai esposti, hanno lasciato un bel ricordo. La famiglia veniva qui a mangiare la pizza ogni tanto, però devo dire delle persone normali, che a giorno d'oggio è molto difficile trovare. Un augurio e un abbraccio ancora. Ciao Gilberto.